tra umanesimo e rivoluzione scientifica. Ospite graditissimo è il professor Guido Giglioni dell'Università di Macerata, che ci parlerà di Marsilio Ficino, ovvero come il prete astrologo contribuisce alla vita e prosperità pubblica. Guido Giglioni è veramente, lui stesso si definisce un clericus vagans, nel senso che ha studiato in Italia, ha fatto il dottorato a Johns Hopkins, è stato parecchi anni al Warburg, che è un po' il tempio degli studi rinascimentali, e adesso è il clericus vagans è tornato all'origine, è tornato a Macerata, e i suoi studi prevalentemente sono sul rinascimento, Marsilio Ficino, anche l'astrologia è uno degli interessi, ma si spigono anche oltre, ha studiato le scienze della vita, il rinascimento nella prima età moderna. Insomma, Guido è un uomo enciclopedico, e gli abbiamo anche chiesto, siccome ci sono molti studenti, di premettere alla vera e propria lecture una piccola introduzione ad uso dei meno consapevoli delle discussioni sull'astrologia nel rinascimento. Quindi Guido, dicevamo, tu appunto parlerai un po' meno di un'ora, poi ci saranno delle domande brevi, così possiamo averne un po' e contiamo di finire appunto un'ora e mezza, eccetera. Guido, prego. Grazie, vi ringrazio molto per avermi invitato, cercherò di fare del mio meglio con questo medium che io non amo molto, che è appunto la tele vita. Mi manca molto in realtà il contatto corporeo fisico. Due parole appunto mi è stato detto per introdurre il tema. Beh, innanzitutto Marsilio Ficino, personaggio importantissimo, direi per quanto riguarda la filosofia ancora forse un po' snobbato, nel senso che lo si considera importante per la mediazione platonica come traduttore, come quello che ha diffuso un certo tipo di platonismo in Italia, poi in Europa. Però secondo me pesa ancora su Ficino una strana sensazione, non tra chi si occupa di quest'autore, ma tra chi in qualche modo si deve occupare indirettamente, cioè veramente non un filosofo come dovrebbero essere i filosofi, però ecco ripeto, è stata una personalità importantissima, si è occupato anche di astrologia, ma direi di astrologia in quanto autore che voleva cercare di mediare tra pensiero filosofico, storia della tradizione e conoscenza della natura e quindi l'astrologia era da questo punto di vista una, come dire, una disciplina ricchissima in tutti i sensi, proprio perché poteva mediare bene tra la pratica morale, politica e medica, ma anche conteneva una cosmologia e quindi una visione vera e propria della fisica dell'universo e nello stesso tempo era anche un sapere tecnico di una lunghissima tradizione, quindi ripeto in questo senso portava con sé una mole enorme di significati. Ora io oggi vorrei parlare di, direi di un aspetto in particolare del modo in cui Ficino usa l'astrologia, il sapere astrologico e precisamente è il rapporto tra astrologia e teorgia. Ecco qui devo dire qualcosa su questa parola, che è una parola anche questa un po' brutta forse. Teorgia si può dire in maniera molto semplificatrice, è una forma di magia, la cosiddetta magia cerimoniale, in realtà è qualcosa di più complesso, in rapporto alla filosofia, cominciando con una particolare tradizione platonica, ovvero i platonici post-plotiniani, diventa, si potrebbe dire, la parte pratica, operativa di un sapere che cerca in tutti i modi di riconnettersi alle origini delle cose e quindi, come indicato dalla parola stessa teorgia, cioè teona ergon, operare divino, con questo riconnettersi al rito, a un certo modo di agire, comportarsi, a un certo modo di relazionarsi pratico nei confronti del divino, con questo scopo la teorgia era stata vista da alcuni filosofi della tradizione platonica come un possibile modo di ritornare per l'anima caduta all'unità divina, questo soprattutto in Giamblico. Ora c'è un nesso molto profondo tra Giamblico e Ficino perché Ficino è il traduttore dell'opera forse più importante che noi abbiamo a disposizione di Giamblico, questo platonico appunto vissuto tra il III e IV secolo d.C., ha tradotto quest'opera che originariamente ha un nome anche molto strano, egiziano in qualche modo, la lettera di Abamone al suo discepolo, in realtà è una specie di gioco filosofico tra Giamblico e il suo collega Porfirio, altro grande e importante platonico, e attraverso questo gioco retorico i due filosofi discutono del senso, della validità e dell'efficacia dei rituali per il raggiungimento del principio divino. Ora quest'opera ritorna appunto in Europa grazie alla traduzione, all'edizione di Ficino, che pubblica il testo dandogli un titolo anche molto accattivante, i misteri egiziani assiri e caldei, e quest'opera secondo me ha avuto un impatto importante in un'epoca che cominciava ad essere sempre più caratterizzata da conflitti tra religione, politica e filosofia, ma anche conflitti all'interno della cristianità, di lì a poco sarebbe cominciata anche la riforma. Quindi ritengo che quest'opera abbia avuto anche un impatto non fortissimo, ma tra un certo tipo di intellettuali proprio sul modo di gestire questi conflitti. Ecco, io oggi vorrei parlare di questo rapporto in Ficino tra astrologia come una forma di sapere di pratica teurgica, quindi teurgico in questo senso molto tecnico che Ficino apprende mentre lavora a un particolare tipo di platonici, soprattutto giamblico. Quindi allora continuerò ad esplorare questa idea di quello che ho chiamato un vincolo teurgico che lega il sapiente al mondo, che ho cominciato anche a esporre in un altro seminario che qui vorrei ricordare, a cui sono stato invitato in ottobre all'Istituto Italiano di Studi Filosofici a Napoli. Ringrazio Giulio Gisondi per questa opportunità e quindi vorrei adesso espandere un po' in questa direzione, questo studio di questo particolare aspetto della filosofia Ficiniana. Vorrei appunto affrontare la questione del ruolo che l'astrologia nel pensiero filosofico di Ficino esaminando i possibili messi che la speculazione e la prassi astrologica intrattengono con la teurgia. Teurgia, ecco, alla lettera significa operare divino, dove l'aggettivo divino secondo me si riferisce tanto all'operatore umano, e questa è un po' l'interpretazione soggettivistica direi porfiriana, tanto quanto all'operatore non umano, che potrebbe essere il demone ma anche Dio, o addirittura il principio unitario ineffabile, questa è l'interpretazione più oggettiva, oggettivistica giamblichea. Per teurgia si intende quindi una pratica rituale volta a stabilire un contatto con il divino. Nello sviluppo della tradizione platonica la teurgia acquistò una crescente rilevanza come dispositivo rituale e performativo, capaci di conciliare le sfere altrimenti difficilmente conciliabili della materia e dell'intelletto, della moltiplicità e dell'unità, del politeismo religioso e dell'assoluta trascendenza metafisica dell'uno, perché va ricordato questo, nella tradizione tardo-platonica il politeismo è importante, molto importante, forse più di Platone, Platone ha un atteggiamento ambiguo verso il politeismo, da una parte quasi ironico e dall'altra invece come principio di coesione sociale, politica e religiosa. Per i platonici tardi, soprattutto giambrico, il politeismo è il, come dire, il dispiegarsi stesso dell'universo ideale dopo la diade e appunto questo continuo prodursi di principi divini, l'ena, di improclo e così via. Quindi il politeismo per la tradizione preficiniana è molto importante. Nel caso di pensatori come Porfirio, Giambrico e Proclo, potremmo parlare di un vero e proprio momento teurgico. Questo momento teurgico può essere osservato anche nell'evoluzione del pensiero ficiniano. Ficino divenne infatti sempre più interessato al tema della ritualità teurgica, mentre lavorava alla traduzione ed esegessi di testi di Porfirio, Giambrico e Proclo. In questo mio intervento vorrei discutere la natura del vincolo teurgico che stabilisce i legami che tengono uniti gli esseri umani tra loro attraverso elaborati complessi di miti, simboli e pratiche rituali. Questo vincolo di carattere esquisitamente culturale e sociale ha però sia in Giambrico che Ficino un chiaro fondamento ontologico nella sfera dell'intelletto. Unisce gli umani perché prima ancora unisce l'intelletto con la natura, il cielo con la terra. Il fondamento ontologico presuppone l'idea di una costruzione demiurgica. Mi riferisco al demiurgo, questa figura importantissima elaborata da Platone nel Timeo e di nuovo il demiurgo e la demiurgia, se così possiamo chiamare questa funzione metafisica, diventano importanti proprio tra i tardi platonici Giambrico e Proclo. Ed è questo stato messo in luce da studiosi del tardo platonismo, il nesso demiurgo e teurgo e teurgia è cruciale. Quindi questo fondamento ontologico presuppone l'idea di una costruzione demiurgica del cosmo come descritto da Platone nel Timeo e ripresa poi in modi diversi dai post plotiniani. Il vincolo teurgico ha quindi un carattere strutturalmente ibrido, è naturale e culturale proprio perché è articolato in senso demiurgico. La natura, ovvero la vita universale del cosmo è il risultato di un atto di progettazione e costruzione che implica una forma tanto quanto una materia, un telos ideale tanto quanto un materiale preesistente. Il potenziale intellegibile della forma va per questo adattato ai condizionamenti della necessità materiale, mentre il condizionamento materiale sia esso l'accidente, il temporale, il molteplice, ciò che è reso visibile attraverso immagini oppure ciò che è raccontato attraverso parole, questo materiale condizionamento non può essere escluso dal campo energetico attivo dell'emanazione intellegibile. Se avete appunto letto, studiato il Timeo, questo è evidente anche in filigrana. Il vincolo teurgico è quindi naturale in quanto connette la vita del mondo sublunare a quello della vita celeste, di qui la centralità del concetto di anima del mondo e anche però le sue implicazioni astrobiologiche. uso il termine astrobiologia in un termine in senso molto antico, medievaleggiante ma anche molto moderno, come voi sapete da astrobiologi è diventato un campo molto serio della scienza e esistono proprio studi ormai dove si cerca di capire la vita non certo del cosmo, non più con l'idea di un'anima del mondo ma senza per questo però togliere, togliere, escludere la possibilità che vi possano essere delle forme anche primordiali di vita nell'universo. Ecco, è culturale questo vincolo e quindi anche sociale in quanto condensa in oggetti, istituzioni, il flusso vitale dei significati ideali, la forza del vincolo teurgico risiede proprio nella capacità di mediare, il teurgo è il grande mediatore, di mediare tra i domini della natura e della cultura. In questo contesto hanno un ruolo fondamentale le imagines, le immagini per Ficino, sono enti centrali nella metafisica Ficiniana a tutti gli effetti, esse non sono solo delle strutture agenti e significanti dell'intelletto cosmico e della mente umana ma anche delle formazioni, possiamo definirle storiche, sedimentatesi nel corso dei millenni in una successione di miti, riti, istituzioni, costumi e infine anche mettiamo appunto le immagini nel senso tecnico astrologico, ovvero i talismani. Ora Ficino usa una sola volta nella sua opera la parola teurghia, direttamente traslitterata dal greco. La troviamo appunto nella traduzione che però è anche una parafrasi e anche a volte commento del testo di Giambrico, come vi dicevo all'inizio della presentazione, noto come la lettera di Abamone e vi dico qui anche il titolo completo perché è interessante, del maestro Abamone risposta alla lettera di Porfirio ad Anebo. Vi dicevo questo probabilmente gli specialisti, gli storici hanno detto che si tratta quasi di un gioco letterario filosofico tra i due autori, Giambrico e Porfirio. E' il testo a cui Ficino ha dato il titolo molto fortunato di dei misteri egiziani dei caldei e degli assiri. La definizione che Ficino fornisce del termine teurgia e secondo me questo è molto interessante, la teurgia è definita in questo testo mentre traduce Giambrico, è definita definita deifica et sacerdozia facultas. Che vuol dire? Mentre l'originale di Giambrico è più semplicemente e di nuovo forse più oggettivamente una teurgiche tecne, cioè una tecne, un saper fare, nel senso originario proprio greco, un saper fare nel campo della operatività sacra. Questa è la teurgiche tecne. Ficino traduce questa espressione come facultas e quindi una forma di dynamis, una capacità, chiamiamola divinizzante e ieratica. E' una capacità deifica che permette alla teurgo appunto di avvicinarsi e perfino assimilarsi a Dio ed è sacerdozia, ovvero è il titolo che attribuisce a particolari individui che si sono, come dire, preparati in questa tecne di diventare appunto dei sacerdos, dei preti, un prete in qualche modo. E questo, devo dire, funziona bene per Ficino che qui ricordo era anche prete, no? Ficino è una figura, lui stesso lo chiameremo un ibrido, perché è prete, è filosofo, è anche medico ed astrologo, quindi in qualche modo vedete, no? Questa è filologo, è letterato, è umanista, una figura molto ricca. Quindi per ritornare a questa definizione Ficiniana, secondo me molto interessante di teurgia, è una dinamis, una facultas, che come dire, dota il suo cultore di un potere divinizzante e ieratica, deifica e sacerdozia facultas. I due elementi, il filosofico e il divino, sono così uniti in questa definizione Ficiniana del Teurgo come vero e proprio prete filosofico. Questa facultas deificas è una particolare disposizione in virtù della quale l'operatore teurgico si pone in contatto con Dio, giungendo ad essa attraverso, da una parte, l'intuizione intellettuale in cui culmina l'esercizio dell'introspezione filosofica e dall'altra attraverso un rituale di iniziazione sacerdotale. La teurgia fin dall'antichità è legata a quell'altra strana parola che è appunto la mistagogia, cioè essere iniziati a un particolare culto. Si potrebbe allora dire che il Teurgo arriva a Dio in modo sia immediato che immediato, lo fa seguendo un processo di autodivinizzazione che riguarda la mente individuale. Allo stesso tempo però seguendo le tracce e gli esempla di una figura istituzionale e sociale che invece coinvolge la comunità nel suo insieme, sollecitando, attivando, così dire, la memoria storica di originare i processi costitutivi di vita. Il Teurgo come prete filosofico gode intimamente della conoscenza divina, condivide questa conoscenza con gli altri membri della comunità attraverso una liturgia che è fatta di tradizioni, simbologie e narrazioni esemplari. Il progetto culturale del Teurgo come prete filosofico delineato da Ficino nell'ultima parte della sua vicenda intellettuale è tuttavia più complesso. L'uso della ritualità teurgica permette infatti a Ficino di presentarsi come prete che intende non solo essere filosofo, questo poi va detto non è particolarmente fuori dal comune, ma anche medico e astrologo, quindi prete filosofo, medico e astrologo. Anche in questo caso l'attribuzione da parte del clero di competenze astrologiche curative non è del tutto senza precedenti, come ci insegnano molti episodi di storia della medicina e della devozione religiosa, soprattutto quando si studiano nel corso del Medioevo e della Prima Età Moderna figure di sacerdoti, parroci che sulle orme del Cristo guaritore di corpi e anime rivaleggiavano con la figura istituzionale del medico. Il campo delle pratiche della guarigione è un territorio notoriamente turbolento e anarchicheggiante, lo è ancora oggi come lo è stato nel passato dell'umanità. Ficino vede nella teurgia post-plotiniana la chiave per precisare il senso della sua idea di cura pastorale delle anime attraverso l'apporto di contributi fondamentali da parte della filosofia, medicina e astrologia. Teurgia significa quindi per Ficino un tipo di spiritualità culturalmente molto stratificata e complessa, che cerca di mediare tra l'universo non umano della pura intelligibilità e l'universo umano della materialità immaginata, attivando tutte quelle forme embrionali di significati intelligibili di cui è costellato l'università e che vengono considerate parti integranti della vita della natura. Cosiddette forme seminali, le forme o idee seminali che sono, come dire, inserite, pronte ad attivarsi nel corpo della natura. Quindi quella di Ficino è una filosofia che vuole calarsi nell'universo delle forme sensibili, oltre che a istruire e consigliare la mente, intende predire, predicare e preservare la salute, il corpo quindi e la corporeta. Nelle intenzioni originarie di Giamblico il momento teurgico si legava molto bene alla metafisica dell'anima discesa, cosiddetta discesa, caduta ovvero nel mondo delle ombre materiali e che attraverso il lato materiale ed esperienziale delle pratiche culturali e culturali, preghiere, invocazioni, cerimonie, divinazioni e così via, ritrovava il modo per ricongiungersi all'uno. Per Ficino la teurgia è altrettanto centrale, con però una più accentuata difesa delle immagini e dell'immaginario e del ruolo operativo dell'essere umano. La teurgia Ficiniana si colora di toni che caratterizzerei come distintamente anti-iconoclastici, proprio perché Ficino considera l'anima umana come copula mundi e l'immaginazione, sia essa immaginazio o fantasia, come la facoltà che consente su vari piani di saldare la natura corporea a quella dell'intelletto. Se vi è un senso nello studiare del pensiero di Ficino in relazione all'arte, a lui contemporanea, secondo me non è tanto sulla base di un'estetica del bello trascendentale che forse nemmeno esiste nella sua opera, ma invece in relazione a un mondo concreto di imagines che caratterizzano la vita quotidiana in Firenze, imagines che vanno dalle madonne miracolose ai talismani astrali. In questo senso le tante exfrasis, exfrasis mitologiche, l'exfrasis è una tecnica letteraria in base alla quale si descrive in maniera vivida, quasi visiva, delle scene, delle immagini e secondo me Ficino è bravissimo usare queste exfrasis mitologiche, no? Perché l'uso della mitologia è veramente pervasiva nell'opera, nell'argomentazione filosofica ficiniana, quindi in questo senso le tante exfrasis mitologiche ed astrali, perché questo è anche interessante, quando si leggono certi scritti ficiniani che hanno appunto un significato anche astrologico, c'è una vera e propria arte ficiniana dell'unire la descrizione mitologica con la spiegazione astrologica e secondo me questo retoricamente parlando ha la funzione anche per il lettore di una vera e propria exfrasis, quindi le tante exfrasis mitologiche e astrali di cui è costellata l'opera di Ficino possono essere considerate a tutti gli effetti come esempi di arte retorico-letteraria, produttrici di vera e propria enargia, no? Quella evidenzia visiva e nello stesso tempo però di arte astrologica, di capacità di intendere come l'energia invece dei pianeti può essere canalizzata ed usata dall'operatore astrologico. Anche in questo senso viene in luce il fatto che la teurgia in quanto mediazione materiale che illumina il potere dei vincoli in ambito sociale, quindi la demiurgia è veramente centrale. Per Ficino come per Giambrico è la demiurgia il fondamento filosofico e teologico che giustifica la possibilità per l'anima umana di ritornare alla sua origine primordiale, l'intelletto forse addirittura l'uno. Il fare, il fare come operare teurgico è quindi un'Ars, una Tecne, che media tra l'intellegibile universale e le tante applicazioni individuali. In questa visione della teurgia come operatività sapiente, come Tecne, che gestisce i vincoli che contribuiscono alla coesione sociale e culturale di una determinata civiltà, un testo chiave, questo per chi studia Ficino è quasi ovvio, è il De Vita Libri Tres, i tre libri sulla vita, che Ficino pubblica nel 1489 e specialmente la terza parte. Ecco, conviene qui rileggere magari insieme i titoli del terzo libro e del primo capitolo in quanto sono un vero e proprio piccolo programma e ci informano su dei dettagli molto importanti. Allora, la terza parte di questo libro sulla triplice vita, il titolo è il libro sul modo di trarre la vita dal cielo composto da Ficino mentre lavorava a commento di Plotino. Ecco, questo è interessante leggerlo nella sua interezza perché è lo stesso Ficino che ci spiega che Plotino, qui il filosofo neoplatonico importantissimo, Plotino ha un ruolo centrale. Ha un ruolo centrale in questa storia perché è, come dire, lo sfondo da cui emerge poi un maggiore approfondimento teurgico. Quindi Plotino è una sorta di basso continuo nel pensiero, nella speculazione Ficiniana e secondo me a un certo punto Giamblico diventa una figura molto importante che, come dire, si staglia contro questo, sullo sfondo di questo continuum Plotiniano. Quindi rileggo il titolo e il titolo del terzo libro è il libro sul modo di attrarre, di assorbire vita dal cielo composto da Ficino mentre lavorava al commento a Plotino. E il primo capitolo, che viene subito dopo, anche visivamente se voi vedete varie edizioni di questa opera fortunatissima, subito dopo questo titolo arriva il primo capitolo dal titolo. Capitolo primo dove si discute in cosa consiste secondo Plotino la forza che attrae il favore dal cielo, ovvero nel fatto che le forme dei corpi debitamente predisposte attraggono facilmente a sé l'anima del mondo e le anime delle stelle e dei demoni. Questo è il punto, poi si sa, insomma i studiotti anche di astrologia lo sanno, è uno dei punti più critici dell'astrologia Ficiniana. Lo sapeva lui stesso perché prima di pubblicare scrive anche una specie di apologia che è una difesa, una difesa preemptive, defense. ecco, le tre parole alla fine del titolo sono secondo me decisive per il senso anche del mio intervento. Il latino sono forme corporum accomodate, forme corporum, le forme dei corpi accomodate, cioè adattate alla situazione. Sentite come ritorna il timeo, ritorna il demiurgo, che deve in qualche modo mediare tra la materia riottosa e l'idea. Quindi le forme corporum accomodate, ecco direi che in genere, potrei quasi dire, no, nella filosofia di Ficino in generale la forma è sempre accomodata, cioè l'idea di una forma, perlomeno in natura, un'idea di una forma che non sia accomodata non va bene. Ora le tre parole alla fine, quindi sono forma e corporum accomodate, la forma appunto è teurgicamente ambigua, è essenza ideale, ma è anche una configurazione che presuppone un'estensione dello spazio in senso quantitativo. Le forme accomodate sono delle forme direi plastiche che demiurgicamente si adattano alla situazione, si adattano da un lato alla necessità materiale dei corpi e dall'altro alla logica ancora più cogente delle forme incorpore. Soprattutto esse sono gli elementi istitutivi dell'astrologia teurgica di Ficino, connettono la vita sublunare delle forme seminali con le intelligenze planetarie, conciliano la spiegazione scientifica delle costituzioni anatomiche dei corpi umani con il racconto mitologico dell'influenza astrale, perché vedete leggendo, quando si legge il testo di Ficino c'è continuamente anche questo aspetto medico e Ficino si presenta come medico in cui temperamenta le costituzioni fisiche dei corpi sono strettamente associate ai pianeti, ma anche strettamente associate a delle simbologie mitologiche che per la cultura europea erano in qualche modo anche questa è una forma di vero e proprio linguaggio. Quindi riprendo un attimo il filo del discorso, quindi queste forme accomodate connettono la vita sublunare con le intelligenze planetarie, la spiegazione scientifica anatomica con il racconto mitologico delle influenze astrali ed infine la costruzione materiale dei talismani con una complessa dottrina di corrispondenze rappresentative tra imagines, imagines cosmiche, imagines mentali ed imagines materiali. Gli stessi talismani del resto sono di per sé degli oggetti assai compositi in cui si fondono nella materialità dello stesso oggetto la forma progettata, il metallo lavorato in una particolare maniera e la gemma o le gemme incastonate in modo da ottenere le dovute forze, di attrarre scusate, in modo da attrarre le dovute forze cosmiche. Il celum, il cielo di Ficino quindi è essenzialmente istoriato, com'è istoriata la sua astrologia teurgica incentrata su immagini che riproducono la storia dell'universo e la storia delle anime e che così facendo indicano una via per ritornare all'uno, il principio di tutte le cose. In questo contesto è interessante notare come i tre libri del De Vita siano stati pensati da Ficino come una sorta di manuale di saggezza pratica. Ficino li descrive infatti come la sua officina in latino è uno spazio concreto della mente in cui vengono elaborate strategie di lavoro mentale che però mettono a punto anche quella che lui chiama una medicina quedam, una sorta di particolare tipo di medicina che agevoli e rafforsi la comunicazione tra il corpo e l'anima. Va detto che quando si ha a che fare con la filosofia di Ficino non si può non ritornare sempre al De Vita e devo dire che ultimamente rileggendolo per un testo che ho letto varie volte, rileggendolo mi sono ancora più convinto spesso si dice, no, forse si studia troppo il De Vita in Ficino, ci sono tantissime altre cose da studiare poco studiate e però effettivamente è un testo abbastanza unico proprio è davvero una sorta di vero e proprio classico Ficiniano quindi, come dicevo, non si può in qualche modo sempre non tornare a questo De Vita per il suo indubbio fascino per le molte suggestioni che derivano da quella che chiamerei una sensibilità medico-teologica di Ficino e da questo punto di vista proprio, dal punto di vista della medico-teologia l'opera esercitò anche una profonda influenza nel pensiero medico e filosofico europeo della prima modernità ma è un'opera importante perché il testo rappresenta uno snodo fondamentale nel pensiero Ficiniano segna appunto l'emergere del momento teurgico di quello che ho chiamato appunto il momento teurgico come autentico lo nucleo della sua riflessione metafisica e teologica tra le tante ragioni dell'importanza di questo testo il De Vita è il documento in cui lo studio Ficiniano dell'universo Plutiniano specificamente il testo di Enneadi 4.3.11 interseca appunto la questione teurgica Ficiniano aveva cominciato a lavorare alla traduzione e commento di Plutino nel corso degli anni 80 del 400 più precisamente aveva tradotto le Enneadi tra il 484 e il 486 il successivo commento all'enneadi cominciato nel 1486 uscì insieme al testo tradotto nel 1492 una data molto importante nel frattempo mentre lavorava Plutino Ficino aveva anche tradotto Giamblico, Sinesio, Porfirio e Proclo alcune di queste traduzioni sono già complete prima del 490 il volume che riassume in qualche modo porta a compimento l'esperienza teurgica di Ficino è l'Incunabolo del 1497 uscito a Venezia per i tipi di Aldo Manuzio ecco qui ho la copia la ristampa anastatica cura di Stéphane Toussaint molto ben fatta ed è un testo secondo me straordinario questa questo questo vi faccio vedere non so se si vede questo questa specie di powerpoint manuale da quattro soldi e no dicevo questo Incunabolo è il testo secondo me in cui culmina questa potrebbe chiamarsi quindi deriva teurgica o accentuazione teurgica dipende infatti secondo me se noi adesso così un po' per scherzo interrogassimo lo Schleiermacher cerchè che appunto in qualche modo è importantissimo per la storia del platonismo nell'ottocento in qualche modo restaura il vero platone il vero platonismo se noi chiedessimo a Schleiermacher questo questo Incunabolo sarebbe proprio un esempio di deriva teurgica del 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 ficino che già aveva corrotto il platone negli anni precedenti secondo me invece è una sorta di coronamento dell'esperienza molto composite e articolata del pensiero ficiniano ora sia che l'impianto di questo libro questo ecco questa è la ristampa la ristampa anastatica sia che l'impianto del libro uscito nel 97 sia dovuto a manuzio sia che sia stato lo stesso ficino a deciderne lo schema gli studiosi concordano che l'accento è fortemente divinatorio demonologico se prendiamo il teurgico nel senso di un'intellegibilità che si è materializzata nella natura e storicizzata nel tempo propenderei a vedere nel teurgico l'elemento che accomuna le varie parti di questa raccolta che solo apparentemente secondo me sono disorganizzate sparpagliate l'organicità e l'impressione che si ha e che ficino al di là di una raccolta stia invece giungendo a una sorta di conclusione della sua riflessione è data proprio dal tipo di ricerche speculative e filologiche che ficino ha condotto nei due decenni finali della sua vita degli anni 80 e 90 in cui il platonismo plotiniano che funge da baricentro interpretativo per gran parte del lavoro ermeneutico e di traduzione svolto da ficino anche e soprattutto in relazione a platone si orienta sempre più in direzione teurgica via via che ficino si inoltra nello studio dei domini dell'alterità demonica dell'alterità della materialità storica e naturale e infine nell'alterità trascendentale dell'unum questo testo comprende infatti dei saggi che sembrerebbero tra loro diverso il già ricordato Giamblico sui misteri egiziani ma abbiamo anche il Proclo il commento di Proclo all'Arcibiade di Platone Proclo sul sacrificio e la magia il celebre testo di Sinesio sui sogni un altro testo di Porfirio e così via se in questa evoluzione i tre libri sulla vita rappresentano quindi uno snodo essenziale l'apologia che è in genere contenuta nelle edizioni del De Vita alla fine del testo questa apologia composta da Ficino per difendere le accuse che questo scritto aveva sollevato è un documento molto significativo soprattutto perché in esso Ficino discute la svolta teurgica in particolare dettaglio Ficino comincia rivolgendosi a se stesso due domande rivolgendo a se stesso due domande in modo retorico direi anche ironico la prima è ma Marsilio non è un prete? non è Marsilio sesta sacerdos ma insomma non è questo Marsilio un prete e la seconda domanda cosa spartire un cristiano con la magia e le immagini le immagini qui è il senso tecnico proprio astrologico dei talismani la risposta che è una sorta come dicevo di autodifesa preventiva è strutturata in tre parti principali elegantemente associate di nuovo a figure mitologiche Minerva, Ercole e Giove è anche associata a vari amici prima di tutto i cosiddetti tre Pieri Piero del Nero, Piero Guicciardini e Piero Soderini e poi in supporto ad ognuno di loro rispettivamente Cristoforo Landino, Angelo Poliziano e Giovanni Picco la teurgia ficiniana intesa come si diceva prima questa facultas deifica e sacerdosa non rifugge dall'apparato emblematico e mitologico dell'antichità pagana è in fondo un'ulteriore forma di mediazione in questo caso una mediazione tra cultura cristiana e cultura greco-romana il progetto ficiniano di teurgia e sincretico caratteristica che è poi un'ulteriore conferma della carica culturale direi quasi antropologica dell'operazione ficiniana ai tre Pieri Ficino assegna un lavoro comune un communis labor di difesa che però va distribuito in base a tre obiettivi principali primo la teurgia è medicina su base astrologica e non pratica incantatoria in secondo luogo la teurgia è magia naturale e non demonologia necromantica infine la teurgia è demiurgia vitale e non è culto idolatrico e panteistico della natura qui la tesi dell'animazione universale del cosmo è una perfetta sintesi di demiurgia divina e teurgia vitale scrive Ficino a questo punto e cito è lo stesso dio costruttore di questo universo a insufflare con benevolenza la vita in questa sua opera da lui portata a compimento in modo così riuscito dal momento che egli non è avaro nei confronti di ognuno degli esseri più infimi e ogni giorno attraverso il cielo dona vita con massima munificenza a maggior numero possibili di enti che sono contenuti in esso fine della citazione in tutti e tre i casi astrobiologia, magia, naturale, cosmologia, demiurgica Ficino insiste che quanto da lui è stato esposto nei tre libri sulla vita è basato su documenti storici e non frutto di illazioni o illusioni la medicina teurgica è testimoniata, testificatur, dalle istorie termine secondo me molto importanti in questo contesto istorie intese nel senso di indagini scientifiche condotte da caldei persiani ed egiziani le procedure della magia benefica vengono semplicemente riportate riferite non necessariamente approvate da Ficino mentre cerca di capire il senso di importanti loci plotiniani infine la magia vitale continua Ficino nella sua difesa la magia vitale risultante dalla demiurgia divina trova conferma anche nel testo biblico e qui Ficino si riconnette a dei luoghi degli atti degli apostoli al testo 17-28 in lui viviamo ci muoviamo ed esistiamo e quindi dice i veri saggi sapientes non orrent mundi vita i saggi sapienti non hanno timore non hanno paura della vita dell'universo mundi vita queste precisazioni da parte di Ficino non fanno che sottolineare l'importante nesso di teurgia e demurgia si tratta di discipline come la arts imaginum che in questo contesto di nuovo tecnico arts imaginum significa la fabbricazione la l'appropriata costruzione di talismani la medicina l'astrologia e anche l'agricoltura tutte discipline pratiche numerate da Ficino in questo contesto che sono anche aree della conoscenza e dell'agire umano in cui il contenuto ideale del sapere si incarna nella materialità dell'applicazione concreta e individuale non è non è a caso proprio in questa relazione proprio scusate proprio in relazione alla medicina che Ficino citi il noto proverbio mens sana in corpore sano per proprio per convalidare la sua proposta di una medicina teurgica chiama anche qui in senso molto mi sembra molto interessante chiama il magus teurgico mundicola il coltivatore del mondo in analogia con l'agricola il vincolo più potente e duraturo di quello tra natura e cultura perché è proprio nell'intersezione tra intelletto e materia che si evidenzia il potere del vincolo teurgico Ficino è assolutamente consapevole che sta anche assolvendo ad un compito civico quando si dedica a questo particolare aspetto della riflessione filosofica e desegessi platonica e qui arrivo appunto alla conclusione anche la parte finale del mio titolo del mio del titolo del mio del mio intervento quell'aspetto proprio di prosperitas vite pubblica di prosperità e di vita pubblica questi esercizi di teurgia medico astrologica vengono presentati da Ficino come un contributo al benessere della comunità vite prosperitas pubblica secondo Ficino il sapere deve contribuire al miglioramento della vita degli esseri umani prima di tutto da un punto di vista morale ma anche considerando un concetto ampio integrato di salute che non si limiti al benessere fisico e spirituale degli individui come farebbe pensare l'impostazione fortemente plottiniana della noetica Ficiniana ma riguarda anche il modo decisivo pubblica proprio perché il prete astrologo in quanto concilia teurgicamente tramite simboli e riti e quindi connette la vita degli individui alla storia di una comunità la distinzione Ficiniana di livelli tra benessere privato e benessere pubblico trova conferma in campo astrologico l'esercizio dell'ingegno e qui cito da Ficino l'esercizio dell'ingegno che sia pubblico e nobile pertiene al sole quello invece privato è legato ad una professione a un mestiere spetta piuttosto a Mercurio fine della citazione quindi oltre ad essere un cittadino insieme ad altri cittadini il prete astrologo medico e filosofo Ficiniano è cittadino del cosmo vivente e suo coltivatore vorrei concludere questo mio intervento menzionando di nuovo l'Incunabolo Aldino del 1497 in cui Ficino pubblica alcuni dei suoi esercizi se possiamo chiamarli esercizi teurgici di esegesi e traduzione l'indice come vi dicevo ci rivela la ricchezza dei temi di cui si compone il bel volume la divinazione il ruolo dei demoni nel trasferire energia e conoscenza tra le varie parti del cosmo il rapporto dell'anima con l'aldilà il sogno come via d'accesso immediata alla dimensione intelligibile perfino la questione del piacere come tramite fisico e spirituale tra i sensi e la mente che per Ficino è sempre centrale si pensi del resto al denso commento al filebo platonico ma che qui in quest'opera viene affrontata riproponendo un trattato della prima gioventù scritto nel 1557 quando Ficino aveva l'età di 24 anni quindi da una parte anche questo è interessante abbiamo in questa silloge un testo che veramente è il primissimo testo di Ficino e poi gli ultimissimi tutti questi elementi sono vincoli e tramiti teurgici la divinazione, il sogno, il rito che saldano il legame tra apparenza e realtà legame divenuto particolarmente tenue prossimo all'asfaldamento in quel periodo siamo appunto a 1496 ricordiamoci che Girolamo Savonarola è ancora al potere è ancora una figura importante a Firenze e la lettera che Ficino scrive a Manuzio proprio in relazione alla pubblicazione di questo testo nel luglio del 97 è davvero molto interessante questa lettera Ficino aggiunge al contagio della peste che effettivamente in quegli anni si era diffusa a Firenze anche la pestis della dissimulazione la peste della dissimulazione capace dice di diffondere contagi altrettanto perniciosi per risolvere il problema di questo rapporto fatto sia ormai sempre più precario tra apparenza e realtà Ficino che si vuol far carico della come si diceva vita et prosperitas pubblica propone il vincolo teurgico tra il mondo dei riti che definiscono una particolare comunità e il mondo dei generi intellegibili che di quella comunità garantisce la sopravvivenza e l'armonia alla base di questa impostazione nel caso di Giamblico nel De Misteris si propone una comunanza originaria degli uomini con gli dèi o Dio questo rapporto primordiale con il divino viene rintracciato da Ficino mentre traduce Giamblico in quello che Ficino chiama tactus quidam divinitatis qui sta appunto interpretando traducendo parafrasando Giamblico è un tatto un contatto un certo contatto tactus quidam divinitatis della divinità che precede la notizia stessa del Dio la conoscenza notizia stessa di Dio quindi è qualcosa di ancor più originario della conoscenza stessa i legami sono originari in quanto derivano dalla stessa natura divina del cosmo in questo senso i vincoli teurgici istituiscono e preservano la comunità tanto a livello concreto che ideale da questo punto di vista proprio considerando gli aspetti politici e sociali di questa discussione la teorgia per Ficino funge anche da vera e propria retorica direi del cosmo attraverso cui si instaura un legame di persuasione tra le parti del cosmo e il suo principio divino il prete astrale proprio in virtù della sua missione teurgica è anche retore oratore in qualche senso questo è tanto più comprensibile in Ficino per la sua missione teologico può mettere a rischio il libero arbitrio degli esseri umani al discapito di un'idea forte di determinismo astrale ecco e qui concluderemo il mio intervento grazie per l'attenzione grazie moltissimo è stata una ti sento un eco Guido ti chiudo il Antonio forse chiudi un attimo il tuo microfono sentone è chiuso allora posso chiedere quello di Guido Guido puoi chiudere solo un attimo poi quando devi rispondere ah va bene sì perché c'è un po' di eco allora bellissima lezione su su questa sull'affascinante nesso tra demiurgia e teurgia e mi impressiona anche il modo in cui salta il paradigma canonico dei secoli precedenti secondo cui operari seguitur esse qui l'esse è operari evidentemente nella tradizione neoplatonica e particolarmente in in vicino ho un paio di domande la prima è lì c'ho in un ruolo in un ruolo importante ai vicino pone pico però pico è quello delle disputazioni contro ad versus astrologiam quindi e quello è un testo di astrologia quindi ecco come si concilia questa questa cosa perché sono proprio gli anni delle disputazioni quindi evidentemente c'è qualcosa sotto che vorrei capire secondo punto è questo se mi chiedo appunto la prossima volta giuliano mori ci parlerà di valla quindi del libero arbitrio eccetera che sono gli anni in cui per esempio pontano c'è il famoso dialogo di di valla di pochi decenni prima c'è pontano che negli stessi anni sta scrivendo sul libero arbitrio eccetera eccetera allora lui appunto con una sorta di autodifesa preventiva che sa proprio di escusazione un petita perché è chiaro che la c'è un problema sulla sua sul suo essere cristiano ortodosso però appunto oltre ai vincoli dati canonici dalla provvidenza divina dall'onniscienza al libero arbitrio umano si concono anche gli influssi astrali poi interpretati come vincoli teurgici in un modo molto importante quindi mi chiedo se mai eh eh marzilio si si discute del libero arbitrio cioè cosa rimane del libero arbitrio in questa trappola tra le prerogative divine e il lavoro del demiurgo sostanzialmente ecco spengo io e accendi tu accendo io no le due le due domande sono secondo me strettamente collegate ecco qui su questo punto poi del rapporto tra Pico e Ficino ci vorrebbe Daron Ratkin che è proprio esperto di questo ehm quello che posso dire è che ehm da un punto di vista ontologico metafisico Ficino e Giovanni Pico si erano comunque discostati l'uno dall'altro distanziati cioè è una questione che ha a che fare ehm per dirla in maniera semplice magari a che fare con l'essere platonici o essere aristotelici e alla fine Giovanni Pico è aristotelico nel senso che l'intelletto e il pensiero di pensiero rimangono il fondamento ultimo della realtà eh Pico non va con Ficino al di là dell'essere al di là dell'intelletto verso l'unumine fabile eh c'è ci sono delle componenti mistiche in Giovanni Pico ma sono diverse e quindi direi la separazione dei due autori la diversità dei due autori ehm ha ragioni profonde di natura ontologica di che cos'è l'intelletto che cos'è la realtà e che cos'è l'unum ecco da un punto di vista astrologico invece secondo me sono abbastanza vicini perché entrambi e questa è la seconda parte anche della tua domanda entrambi hanno il timore che adottando una visione chiamiamola per rimanere all'epoca pomponaziana del determinismo astrale vada perso proprio quello che è la libertà degli individui ma anche la libertà in un senso storico delle comunità della storia umana e quindi Ficino Giovanni Pico è vero scriverà questo testo contro l'astrologia ma è l'astrologia divinatrice l'astrologia che pretende di calcolare stabilire con precisione deterministica tutti gli eventi della realtà bene ma altrimenti l'astrologia che difende anche Ficino è difesa da Pico ovvero l'idea che ci siano degli influssi che sono però in qualche modo riportabili a calore luce e vita questo anche Pico lo riconosce ma questo lo riconoscerebbero tutti lo riconoscerebbe addirittura non lo so che plero poi che continuerà ad essere astronomo e astrologo ecco come però si risolve il problema secondo me proprio adesso e vi ringrazio anche per l'invito perché ho pensato in questi giorni a questa questione secondo me questo approccio teurgico permette a Ficino proprio perché recupera l'idea originariamente timeica platonica della costruzione del mondo come una specie di compromesso tra quello che è il rigor deterministico dell'idea e invece l'accidentalità brutta della materia quello che avviene nel mondo che è questo intermezzo tra la realtà e il non essere la realtà intellegibile in questo intermezzo in questo intermezzo vige la regola delle cosse del probabile cioè del della come dire del livello di bontà e di bene che si può raggiungere date determinate circostanze quindi in questo senso si riesce a ritagliare un margine alla libertà poi poi Ficino appunto è è platonico ma è platonico eretico secondo me proprio perché ha sempre una tendenza pelagiana nel senso che crede a questa libertà dell'individuo e per questo che non si può forse dire platonico completo a tutti gli elefetti Ficino difende l'uomo proprio la copula mundi ha questa componente ecco questa componente forte ermetica che gli che conferisce a tutta la sua analisi un 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 forte accento direi operativo pragmatico in questo senso riesce secondo me anche a contemplare uno spazio per la libertà umana per queste varie ragioni grazie 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 se ci sono domande possiamo segnarle sulla allora c'è già una domanda Antonio molto breve vorrei ringraziare questa bellissima relazione così ricca di stimoli su vari fronti vorrei fargli subito una domanda sul tema dell'immaginazione che hai trattato Guido e che ovviamente mette in luce l'impegno anche dal punto di vista medico del lavoro fisciniano come si coniuga l'immaginazione in una visione cosmologica con quella di carattere più strettamente medico in Fiscino ma veramente direi il rapporto è molto molto armonico molto coerente cioè non esiste da questo punto di vista qui in questo senso non esiste una frattura perché l'immaginazione dell'universo è un'attivazione di potenzialità vitali a tutti i livelli quindi anzi Fiscino voglio dire questo gioco riesce a Fiscino proprio perché immagina un'ontologia basata su queste corrispondenze tra diversi livelli di immaginazione a partire proprio dal livello elementare cioè delle razioni seminales che sono veramente degli embrioni di rappresentatività della realtà Fiscino non ha problemi a perfino immaginare la possibilità di un'immaginazione che possa essere anche estesa alle piante o altri organismi certo sono forme diverse quindi anche nel caso della cura ma questo questo riesce bene come poi ecco per ricordarmi un altro autore che ho un po' studiato come riesce bene a un autore come Van Elmont dopo che ha forti anche è un altro degli autori a cui pensavo quando ho detto della diffusione di questa tradizione medico-teologica riesce bene non riuscirà più bene quando si comincia a pensare che forse queste corrispondenze segnature rerum tutto questo armamentario in realtà è una proiezione della mente umana su un mondo dove queste analogie non esistono assolutamente a quel punto cade davvero questo questo questa sorta di osmosi tra immaginazione del cosmo e immaginazione umana crolle là e si ritornerà secondo me a una forma pragmatica che vige tuttora secondo cui l'immaginazione è importante per guarire perché il medico magari ci come dire ci influenza il placebo tutte queste cose che però una concezione soggettivistica dell'immaginazione non ha più questo questo valore oggi sarebbe vista come una forma di delusion grazie 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 allora mi viene in mente che forse Galileo è il primo che abbandona questo paradigma Camerota e Bucciantini hanno trovato una lettera in cui il cardinale Piccolomini da cui Galileo con cui abitava presso di cui abitava quando era agli arresti domiciliari all'inizio e il cardinale Piccolomini si lamenta col fratello che dice ma questo non ci crede all'astologia e come è possibile la sua vita non ci credeva più al contrario di Keplero come hai detto tu allora poi c'è Stefano Andretta chi altri vuole segnarsi può alzare la mano oppure sì alzare la mano è una cosa migliore posso posso intervenire dunque io avevo dunque innanzitutto ringrazio moltissimo Giglioni per questa stupenda lezione sul Marsiglio vicino grazie che veramente ho apprezzato mi ha aperto anche diciamo delle prospettive francamente di grande interesse io sono di origine filosofica per studi ma faccio lo storico dell'età moderna in particolare del rinascimento dell'età barocca per cui in realtà la mia questione si centra proprio considerando l'impianto stesso della lezione c'è un punto particolarmente nevralgico difficilio che ha il rapporto con l'intellettualità contemporanea in questa intellettualità naturalmente è stato citato giustamente Pico per una polemica conosciuta appunto in modo particolare contro la superstizione astrologica diciamo così genericamente intesa ma c'è un altro punto chiave che è la questione dei rapporti con Savonarola e allora questo aspetto dell'immaginazione dunque che è stato un rapporto in realtà controverso che non si può risolvere soltanto diciamo con il trattatello del 98 poi lui muore l'anno dopo nel 99 e che diciamo così è un trattato dichiaratamente contro Savonarola però c'è tutta una fase in cui c'è una seduzione invece sul profetismo come manifestazione in qualche modo ecco io volevo sapere se è possibile diciamo così approfondire approfondire questo elemento proprio nella logica del tuo impianto che è bellissimo diciamo così no e nel tema stesso della 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 lezione che ci hai ci hai regalato ecco questo grazie no no sono d'accordo con quanto detto sono molto d'accordo e no penso che il rapporto tra traficine e quello che stava accadendo a Firenze attraverso Savonarola deve essere stato un momento molto tormentato anche della sua vita ma anche le sue amicizie il suo modo di pensare ecco giustamente hai detto la alla fine la profezia ecco qui qui le cose allora diventano molto complicate quando si parla di astrologia ci può ci possono essere problemi di vario genere il libero arbitrio il determinismo e così via ma poi quando entra invece in scena quest'altro problema che è quello della profezia ovvero un'altra un altro elemento all'interno della divinazione allora le cose diventano molto complicate cioè possono essere molto semplici da un punto di vista perché anche in base alla tradizione classica antica greco romana all'interno della divinazione l'astrologia si potrebbe dire a uno statuto comunque inferiore perché è una tecnica umana di previsione è quindi esposta anche all'accidentalità delle cose mentre invece la profezia viene generalmente catalogata tra le forme di divinazione naturale l'astrologia è divinazione artificiale la profezia è divinazione naturale che significa significa che in quanto artificiale l'astrologia ha bisogno di un metodo di una tecnica e quindi questo la espone ai problemi epistemologici epistemologici e pragmatici proprio delle applicazioni del seguire un determinato metodo insomma la rende esposta all'errore la divinazione naturale che sia l'oracolo per gli antichi o la profezia appunto per possessione diventa la norma della divinazione vera e questo poi questo poi quando quando poi la collocazione si complica ancora di più con le con le religioni rivelate dove il profeta è la fondazione di ogni cosa che sia Maometto che sia Mosè che sia Cristo insomma sono i profeti e questo è quello che rende questo tipo di religione in genere viene considerato in qualche modo il fondamento perché i profeti sono coloro che nemmeno prevedono le vedono le cose sono delle vere e proprie epifanie questa analisi si trova anche volendo al di là delle religioni per esempio nel testo di Giambrico quando Giambrico nella sezione intermedia dove parla delle divinazioni si sofferma anche a parlare di profezia e queste sono forme quindi in qualche modo certificate autentiche ecco tra 400 e 500 ritorna il problema della profezia perché in un momento in cui la religione ha il problema di essere in qualche modo posta in crisi esposta a critiche scettiche la profezia ritorna il fondamento non mi viene il nome Girolamo Savonarola ecco Savonarola è profeta Savonarola che scrive contro l'astrologia quindi contro forme artificiali possibilmente esposte a interferenze demoniche di astrologia e predizione è però difensore della profezia e così lo è Ficino Ficino che scrive proprio anche qua di nuovo dialetticamente rispondendo a Savonarola che scrive di San Paolo del San Paolo mistico rapito al terzo cielo eccetera e anche appunto che traduce e scrive di Giambrico anche lui ha questa idea che la profezia sia in qualche modo un fondamento e questo secondo me continuerà anche poi dopo con la riforma dove la profezia quando non basta nemmeno le segesi del testo si ricorre al profeta di nuovo perché dà quella specie di certezza auto-evidente che le altre cose non danno grazie 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 mille grazie prego grazie a lei c'è so se ci sono altre domande ho visto una mano alzata forse di uno studente poi una studentessa ci ha mandato una domanda l'ha mandata io non la vedo la mano no professore io l'ho mandata a lei perché non mi sarei mai permessa di intervenire prego Alessandra no no ma allora no Alessandra assolutamente ma vabbè abbiate pazienza perdonatemi ma è che mentre sentivo appunto l'intervento del professore Andretta e questa diciamo flash su Savonarola mi domandavo però Savonarola non lo potremmo definire anche lui un teurgo cioè tutte ci sono una serie di personaggi ecco perdonatemi no certo il problema è della teurgizzazione di tutto beh il teurgo è una specie di diciamo il teurgo nasce come una sorta di prete pagano non so come dire la religione greco romana non ha il prete insomma non hanno perché chi sono i sono i poeti no anche come gli umanisti diranno oppure una religione civica non esiste questa figura dell'intermediario interessante ma ecco sì cioè esistono esiste un politeismo su base molto poetica epica oppure esiste la religione civile cioè è un tipo di la figura del di colui che è associato all'amministrazione dei culti è parte della politica e questo sia in Grecia che e soprattutto a Roma quindi la figura del teurgo è interessante nel mondo pagano secondo me per questo perché è una figura un po' un po' a parte è molto interessante quando diventa parte dell'armamentario metafisico dei platonici per cercare di sopperire a questo baratro che si va creando tra la realtà sensibile e un mondo intellegibile che diventa sempre sempre più trascendente ecco diventa interessante per me per interpretare Ficino perché Ficino cerca di fare un'operazione diversa da quella di Savonarola Savonarola non penso possa essere visto come teurgo è un come dire è un certamente è un pre è un frate e quindi è parte della delle figure canoniche diciamo così della 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 chiesa cristiana magari eretico certo tanto è vero che poi non finisce bene però non è un teurgo perché l'aspetto paganeggiante l'aspetto il tentativo di conciliare il mondo pagano con il mondo cristiano direi pagano in un senso molto generico che possa essere applicato anche al rinascimento anche altre epoche cioè ciò che non è cristiano questo tentativo di mediazione secondo Ficino può avvenire se si ripensa a una modernizzazione del teurgo ecco Savonarola è per una teocrazia cioè lì non ci sono secondo me poi molte sfumature ecco forse Ficino le sfumature sono troppe forse sono troppe perché appunto diventa mago astrologo medico mille sfaccettature ma questo è permesso proprio da una forma di di atteggiamento di metafisica questo che avevo detto la forma accomodata la forma accomodata funziona molto bene per Ficino ma già per alcuni platonici potrebbe essere troppo compromessa e compromettente e poi ripeto appunto su Ficino pensa proprio questo che la forma forse è troppo accomodata e quindi quando a un certo punto si è ripreso in mano Platone e il platonismo Ficino è diventato davvero l'elemento da neutralizzare grazie non so se Bartolomeo d'Assisti ha una domanda perché ha acceso no grazie ok allora ci sono altre domande credo e Guido ti grazie 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 ci sono altre due altre tre domande ah io non le vedo scusa Laura Galipò ok sì sì non è più grazie io ho una domanda per il professore Giglioni volevo chiedere se si può dire in un certo senso che il Teurgo può essere considerato il rapporto con la divinità come poi lo scienziato sarà considerato il rapporto con la natura cioè si può se consideriamo appunto la teologia come l'elemento operativo pratico esperienziale direi in questo si può fare un'analogia non penso sia troppo ardita perché no cioè nel resto quando nella sua opera qui nel De Vita Ficino discute di non solo di astrologia ma di altre discipline che hanno a che fare con la natura questo elemento è molto forte a me è colpito ad esempio il riferimento all'agricoltura che ritorna anche in altre parti dell'opera di Ficino è anche questo un topo se non è davvero completamente Ficiniano la medicina e l'agricoltura sono simili perché hanno a che fare con un mondo già dato con un suolo con un terreno con un clima e così via quindi bisogna di nuovo venire a termini con la realtà però nelle mani di Ficino questa idea diventa interessante perché è legata proprio a un tentativo di rimodernare la metafisica un po' irrigidita dei platonici capite? quindi non escluderei certo anche nell'ambito della scienza esiste questa parallela evoluzione verso una razionalità della natura flessibile che possa essere indegata attraverso la congettura l'esperienza esiste è vero che anche il grande ritorno della matematica è una delle ragioni per cui la scienza moderna nasce ma nasce anche perché c'è la storia naturalis e altre altre tradizioni molto più flessibili e accomodate grazie 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 giovanni nigris sì professore buonasera buonasera parlando di teorgia mi è venuto in mente l'ultimo imperatore pagano no l'imperatore giuliano che ha tentato anche lui una conciliazione ma senza riuscirci visto l'importante avvento del cristianesimo in quel periodo mi chiedevo lui è andato a fare tutta una serie di studi e approfondendo i suoi studi è entrato in contatto con la tradizione precedente arrivando fino ai misteri e le usini allora volevo capire se ci poteva essere un contatto tra quello che ci ha detto lei e questa tradizione ma qui allora Ficino conosce conosce questi conosce l'idea dei misteri e le usini l'imperatore giuliano conosce come 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 studioso questa ma non che io sappia non che io sappia non lo so se avvera poi in qualche parte della sua opera anche discusso l'imperatore giuliano l'imperatore giuliano però interessante nella questa storia perché è vero è un tentativo di riportare in auge il mondo che sta ormai declinando politeistico e lo si fa attraverso il recupero della tradizione teurgica dei riti appunto chiamiamoli iniziatori magici eccetera sottolineerei in questo caso lo stretto rapporto con Giuliano del politeismo e dei culti e dei riti teurgici il politeismo scompare questo il fatto sta morendo come prospettiva rimarrà rimarrà in forma rimarrà un po' sotto traccia nascosto come forme paganeggianti questo è stato studiato in mille modi però il fatto è che di fronte a un tipo di trascendenza monoteistica il politeismo diminuisce e e questo però è una dialettica interessante di nuovo perché secondo me si ripresenta proprio con il ritorno di questo mondo pagano che aveva degli aspetti appunto come diceva warburg anche apparentemente temibili e e demonici perché poi si si mescolavano questi come dicevo prima in giambrico è molto chiaro il politeismo è parte della metafisica perché sono le idee gli dèi sono le idee capite anche questa è una forma di concretizzazione del del mondo delle gerarchie appunto dei generi e poi però questi 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 perché l'articolazione in giambrico è complessa ci sono gli dèi gli eroi i demoni gli arconti cioè tutto un mondo di di dèi e immagini scomplica questo mondo poi si trasforma in un mondo in gerarchie più o meno angelico demoniche no e non a caso poi per ritornare al al test di cui vi parlavo qui nell'indice c'è anche lo psello sui demoni interessante anche questo non l'avevo citato ma in questa silloge dell'ultimo officino c'è anche lo psello con i demoni ma perché questi demoni sono un residuo di questo politeismo che anche se è decaduto nonostante i tentativi di giuliano l'imperatore eccetera rimane una forma che non può sembrerebbe non si può non si può totalmente eliminare questo pluralità di principi grazie grazie mille Guido adesso non vedo altre domande non so e beh ti ringraziamo e di questa bellissima conferenza anche delle risposte dodottissime che ci hai dato lo ringrazio molto anche a voi però veramente perché mi ha fatto pensare molto questa come hai visto sei andato anche bene non è così diabolico non è così no infatti sono contento però ecco mi sono messo qui in questo angoletto che ho scoperto dopo ormai anch'io sto diventando officiniano ho capito nella mia casa qual è l'angolo dove arrivano gli influssi telematici perché in altre parti della casa non arrivano quindi tocca andare in giro poi fai come una immagine degli influssi celesti funziona perché non è che sempre si tocca cogliere la maniera giusta bisogna ma funziona è vero però a me non so perché mi mette una grande ansia io sto vivendo questa teledidattica in una maniera come una forma di possessione demonica non mi piace proprio però dal nostro punto di vista la possessione ha funzionato perché sei andato va bene grazie ancora Guido allora grazie a voi grazie a tutti i partecipanti grazie a tutti i colleghi e gli amici che sono qui grazie a tutti ci vediamo il 16 per la terza e ultima ciao ok grazie a tutti bene bene arrivederci ciao Mario ciao Antonio ciao 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 ciao